Il panorama turistico musicale a Padova parte dall'assunto che c'è un panorama musicale estremamente vivo e vivace, anche se ogni tanto un po' sconnesso. Infatti abbiamo cercato di costruire una visita guidata all'interno della Padova di Cristofori e di Giuseppe Tartini, altra figura importantissima nella storia della musica che ebbe a Padova la propria casa, proprio per poter integrare questa musica all'interno della città. Questo ovviamente è fondamentale per poter costruire quelle che sono le offerte di turismo musicale, ad esempio, incentrate su Padova, la città dell'inventore del pianoforte, Padova, la città di Giuseppe Tartini, e proprio iniziare ad uscire anche poi da quello che è semplicemente l'idea del concerto con gli strumenti e iniziare anche a mettere insieme, ad esempio, una visita guidata all'interno della città, una città che ha così tanto patrimonio e storia all'interno della musica, e iniziare a metterli insieme poi a un'esecuzione musicale, come appunto le teste di prodotto che abbiamo realizzato con il Festival Cristofori. Grazie per la visione!